Ci sono anche quattro carabinieri in servizio a Lucera, tra le persone in tutto 16, arrestate oggi nel Foggiano. I carabinieri arrestati svolgevano funzioni di appoggio ad un gruppo criminale, dedito all'estorsione a negozianti, gruppo che avrebbe anche compiuto l'omicidio del componente di una banda rivale. Le ordinanze, 15 in carcere ed una domiciliari, sono state eseguite dagli agenti del commissariato di Lucera della Polizia di Stato e dai carabinieri del comando provinciale di Foggia. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati di concorso in omicidio premeditato, estorsione mediante intimidazione con colpi d'arma da fuoco, incendio, minacce e favoreggiamento. Tra gli arrestati ci sono elementi di spicco della criminalità locale, come Antonio Cenicola, di 39 anni, Antonio Cenicola, di 66, detto Mauril, e Antonio Ricci, chiamato il Nanetto, di 35 anni. Le indagini sono cominciate dopo l'uccisione di Fabrizio Pignatelli, ucciso a colpi d'arma da fuoco il 30 agosto 2011 a Lucera, nei pressi del suo circolo privato. Gli investigatori avrebbero individuato l'intero gruppo criminale che progettò ed eseguì l'omicidio. Le indagini, in particolare, hanno condotto gli investigatori a gruppo Cenicola Ricci, il quale, imponendo l'acquisto dei propri prodotti ittici e ortofrutticoli ai commercianti locali, mettevano in atto estorsione ed incendi.